Mirella è il presidente dell'Unità Alzi sotto sezione di Penne e oggi avete voluto fortemente questa iniziativa qui a Penne anche per prepararvi al pellegrinaggio dell'8 dicembre a Lourdes. Vero, questo è un rosario irrerante che va per tutta l'Italia, adesso ce l'abbiamo qui in Abruzzo, quindi è meditato, è un rosario bellissimo, coinvolgiamo tutte le associazioni di Penne. In più stiamo promuovendo per andare a Lourdes l'8 dicembre per l'Immacolata, tre giorni, quindi andiamo con l'aereo e andiamo anche con i pullman. Dante Del Pidio, quali sono i punti importanti dell'Unità Alzi? Vivere 365 giorni l'anno con gli ammalati, con le persone disabili, con gli anziani, con i piccoli, con coloro che hanno bisogno, con quelle persone che spesso la società trascura, che non si accorge dei loro bisogni e allora noi cerchiamo di sopperire lì dove ci sono delle carenze. Dove si trova la forza per fare tutto questo? Dal sorriso di quelle persone che quando tu le aiuti, quando le imbocchi, quando asciughi una loro lacrima, quando le nisci una loro sofferenza, ecco quel sorriso è il miglior ringraziamento che concede a tutti quanti noi la forza di fare quel che facciamo sapendo che abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Vogliamo dedicare questo rosario ad un carissimo amico, un nostro testimonial, si tratta di Fabrizio Frizzi, testimonial del nostro progetto Bambini che come sapete sta attraversando un momento di difficoltà, un momento particolare, allora gli ho chiesto di potergli dedicare la recita di questo rosario questa sera qui da Penne per augurargli una pronta e immediata guarigione.